Anche i miei genitori hanno deciso che la vita nella città nostra era impossibile di rimanere là e hanno deciso di lasciare la Polonia. Abbiamo passato le frontiere di Czechoslovakia, Ungaria, Romania, poi abbiamo ritornato a Ungaria, Ostria e dell'Ostria all'estate del 1945 siamo arrivati in Italia. Arrivando in Italia il primo posto che abbiamo affermato era un campo di transit a Bologna e poi a Modena e di Modena l'hanno trasferito un posto a Padova. In Padova, quando ero a Padova avevo anche un buon amico che ci abbiamo incontrato a Romagna. Abbiamo sentito che era un posto, una casa di bambini che si formava, che si poteva andare a studiare, lavorare un mezzogiorno e studiare un mezzogiorno che si chiamava la casa di Scesopoli in un villaggio di Selvino. Scuso, sarebbe la provincia di Lombardia. I miei genitori naturalmente non erano contenti che io volevo lasciare Padova e andare a vivere da solo, ma però la mia mamma, che era una persona che l'educazione era molto importante per lei, ha detto se puoi studiare, fai. Abbiamo sentito che Scesopoli era un posto dove si poteva studiare e dentro l'ufficio del campo di Padova hanno detto che per andare là si deve presentarsi a Via Unione, a Milano. Allora, noi due, io e mio amico, che si chiamava Itzhak Slodovnik, non ricordo esattamente come siamo arrivati a Milano, a Via Unione, ma sono sicuro che era un camion che andava a Via Unione, Speso, di Padova. Siamo arrivati a Via Unione e l'hanno detto di aspettare per qualcuno che viene là Speso, e che si chiama Feta Moshe, Zio Moshe, o Zio Moshe. Non ricordo neanche se era un giorno o lo stesso giorno che è arrivato con la sua macchina, che aveva un, non grande, ma però più di un piccolo camion, e l'ha portato a Selvino e prima di partire ha raccontato che la strada per andare a Selvino non è, non è deritto, deritto, si deve fare qualche giri. E naturalmente che siamo arrivando a quella strada là, vicino il posto che quando si guardava l'altezza aveva un po' di paura, ma però siamo arrivati e dopo era come niente, erano abituati a viaggiare a questa strada là. A Selvino l'ultimo tempo che stavo là, l'hanno dividi, l'hanno fatto di gruppi della stessa età. Allora io ero in un gruppo con amici, con amiche, e naturalmente con quelle là eravamo sempre insieme, anche se giocavano, eravamo insieme con quelle là. e la prima volta che sono andato in Israele l'ho incontrato in parecchie di quelli amici e siamo rimasti amici fino adesso. E naturalmente ci sono quelli che sono morti, non vivono più, ma quelli che io sono in contatto, ci rivediamo ogni tanto che vado in Israele e fanno una piccola incontro per essere insieme. Allora ci sentiamo come fratelli, sorelli, perché eravamo un tempo che abbiamo perso quasi tutto. Il direttore della casa era Moshe Zehri e erano professori di Israele che vivono e erano anche i sopravvisuti che erano i professori nelle scuole in Europa e che era uno che ricordo e lui era attualmente che mi piaceva molto. e poi c'era anche un dottore era una donna, una giovane donna ebraica, ebrea, italiana, che ha sposato un... mi sembra che era un ufficiale della casa dei bambini di Sesopoli. Per noi bambini, dal tempo che io sono arrivato, era una meraviglia. Era... aveva una piscina dentro che era un campo per giocare calcio e noi siamo usciti di campi, di posti che noi non abbiamo visto niente. Si alzava abbastanza... early. Si faceva un po' di sport un mezzogiorno si andava a lavorare il lavoro nostro era di lavorare dentro la cucina dentro la sala di mangiare o pulire anche i... 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 toaletti e un mezzogiorno era per studiare e quelli che hanno lavorato la mattina studiavano il pomeriggio, quelli che hanno studiato la mattina hanno fatto lavorare il pomeriggio e la sera erano i... 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 i tempi di giocare, di... di divertirsi. Abbiamo eh... fatto visite al villaggio di Selvino ehm... erano solo i tempi che... che... che era... eravamo liberi di uscire del... di Scesopoli e naturalmente il fotografo era il primo posto che si andava per... per fare fotografie ehm... e anche per prestare un... una bicicletta per andare un piccolo ehm... 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 ride con una bicicletta ehm... quelli gente naturalmente che si vedeva ehm... quasi... ogni settimana ehm... le altre se venivano hanno lavorato dentro la casa, li abbiamo conosciuti, ma però non era la possibilità di conoscere la gente del villaggio, perché la libertà nostra di andare al villaggio era solo per qualche ora, un certo giorno, piuttosto il sabato, ma non solo il Dormen, lui faceva tutte le altre cose, era una persona che con sorriso sempre, lui era un amico di tutti, una brava persona, non conosco nessuno che aveva qualche problema con il signor Angelo, Angelo era nostro amico, io ho giocato calcio, ma erano giovani, giocavano meglio di me, allora la prima squadra di Scesopoli non l'ho fatto io, io non ero così un buonissimo giocatore, perché dentro i ragazzi i più vecchi, anche l'età mia era uno del gruppo nostro, dallo stesso, la stessa età che io, lui giocava tanto meglio di me, allora la prima squadra no, ma però abbiamo giocato fra amici, seconda, terza, quarta, non lo so, ma abbiamo giocato bene, non così. Ricordo anche il primo giorno che sono arrivato a Selvino, abbiamo incontrato il direttore, e poi lui ha spiegato che cosa faremo stasera e domani e dopo domani e tutte le altre cose, la prima cena che eravamo un po' meno di 50 bambini questo tempo là, abbiamo cominciato a mangiare, e io forse perché ho lasciato la mia mamma e il padre a Padova, la prima volta che ho lasciato i miei genitori, ero un po' nervoso e non potevo mangiare troppo, allora c'è rimasto un po' di mangiare il mio piatto, era uno che è seduto vicino a me e mi dice, perché non mangi, se io non ho fama adesso, allora posso mangiare quello che ha lasciato, sono sicuro che non ha. Allora vuol dire che il primo tempo non era abbastanza a mangiare, ha mancato un po' di mangiare, era un aiuto di soldati ebrei, che è dell'armia di Britannia, erano anche di Palestina, un gruppo di Jewish Brigade e loro hanno portato un po' di mangiare, ma non era abbastanza perché eravamo dalle montagne, l'aria era fresca, era i giovanotti che ci voleva, potevano mangiare un po' più che gli anziani mangiano adesso, allora non era abbastanza il primo tempo, ma però dopo l'aiuto di una organizzazione, nell'altra, anche il Joint Distribution Committee ha cominciato ad aiutare SESOPOLI, e questo tempo là era abbastanza a mangiare, abbiamo avuto tutto, non mancava niente.